Il Covid continua la sua lieve flessione in provincia di Caltanissetta. Nell'ultima settimana ci sono stati 21 pazienti positivi al coronavirus, finiti tutti in isolamento domiciliare. 11 pazienti nel capoluogo Nisseno, 6 di Gela, 1 di Butera, 1 di San Cataldo, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno. I ricoverati in ospedale con degenza ordinaria sono 3 pazienti di Gela e 1 di Niscemi. Dimessi dalla degenza ordinaria invece 3 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 2 di San Cataldo, 1 di Niscemi e 1 proveniente da fuori provincia. Mentre guariti da Covid-19 sono 6 pazienti di Gela, 3 di Caltanissetta, 2 di Mussomeli, 2 di San Cataldo, 1 di Marianopoli, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Vallelunga Pratameno.